Buongiorno a tutti, sono Simone Carbonara del team Martinelli Remax Stella Polare. Oggi ci troviamo a Casa Massima, precisamente nella zona denominata Covent Garden, in via Berlino 12. Non vi dico altro, vi aspetto all'interno dell'appartamento. Benvenuti in questo appartamento introvabile, composto da quattro vani, tre camere da letto, due bagni e un ripostiglio, completamente ristrutturata due anni fa. Voi godetevi la casa, io vi aspetto fuori. Come appena detto, l'appartamento è stato completamente ristrutturato. Pavimentazioni in gress porcellanato effetto legno, infissi a taglio termico in legno lamellare, climatizzatori, porti a scrigno, faretti, zanzariere, tende da sole, impiatti completamente nuovi e tanto altro. Come nuovo, anche il palazzo, in virtù del bonus 110. Insomma, preparate le valigie, la cassa vi aspetta. Grazie a tutti! Avete visto? Vista magnifica. Tre balconi, quinto piano. Adesso passo la palazzo a ad Alessio. Riuscirà a stopparla? Siamo giunti al termine. A completare la proprietà abbiamo anche un comodo box auto al piano seminterrato e, come avete potuto notare, uscendo dal portone, a pochi passi, potrete godere di questo meraviglioso parco appena realizzato. Io il mio goal l'ho fatto. Ora tocca a voi. Contattateci e non perdete questa opportunità.